Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Molto presto di mattina vanno le donne su in collina e si portano i profumi alla tomba di Gesù Ecco un angelo che appare e le donne hanno paura ma lui dice, egli è vivo, nella tomba non c'è più Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Con il cuore pien di gioia esse corrono in città e raccontano agli amici quella bella novità Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! Gesù è vivo, è risorto, Gesù è vivo, alleluia! 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 Grazie a tutti.